Le tensioni di una lunga campagna elettorale esplodono all'indomani della sconfitta della candidata leghista Francesca Pilla e di tutto il centrodestra, che per la farmacista ha un solo responsabile, il candidato di Forza Italia, Oliviero Leo, contro cui vengono pronunciate parole pesantissime. Per un uomo del Sud è un uomo che si dichiara un uomo d'onore, un uomo d'armi, che è stato responsabile della vittoria del centrosinistra nel 2013, che anche quest'anno è stato responsabile della vittoria nuovamente del centrosinistra. Io dico soltanto che deve prendersi le proprie responsabilità e decidere una volta per sempre di andarsene a casa. Forza Italia al primo turno ha portato a casa il 3,31% e ciò nonostante Leo pretendeva di dettare condizioni sulla maggioranza di costruisce Pilla. Dopo essersi alleato, una prima volta con Cereser è stato di nuovo responsabile della vittoria del centrosinistra. San Donà è storicamente di centrodestra, quindi San Donà si ritrova con un governo di centrosinistra che fino ad ora, secondo me, ha tenuto la città assopita e addormentata. Bene, il centrodestra prenderà le proprie responsabilità su tutto il fronte, soprattutto quello che non ci ha aiutato in tutti questi mesi, che si è opposto e che ieri ha detto andati al mare. Quindi un uomo così, secondo me, deve solo togliersi dalla faccia di San Donà. Diametralmente opposta all'interpretazione di Leo, che input alla vittoria di Ceresera, all'impreparazione di Pilla e del leader locale del Carroccio, il vice governatore Gianluca Forcolin. Il giorno dopo le elezioni sono andato a casa della dottoressa Pilla per fargli gli auguri e per parlare del proseguio. Gli ho chiesto l'apparentamento, ma lei non sapeva cosa fosse l'apparentamento e chiedeva aiuto agli altri. Dopodiché gli hanno spiegato cos'era, quindi anche lì quello che criticavo a questa candidata era un'impreparazione ad assumere un ruolo così importante. La differenza nei risultati della Lega tra il Veneto orientale e il resto d'Italia attacca Leo. Si può spiegare solo con il complesso di inferiorità di qualche politico, che invece di lavorare assieme pensa di dover distruggere la forza complementare di centrodestra. In tutta Italia, anche nelle regioni rossi ha vinto, qui a San Donà, a Eraclea, a San Stino, la presenza del vice governatore ragionier Forcolin permette che non si vinca. La colpa è sua, se ne faccia una ragione. Lui è stato bocciato dal centrodestra in questo tipo di atteggiamento. Speriamo che qualcuna provveda per riorganizzare le forze di centrodestra. Grazie.